buonasera a tutti nuovamente stiamo per iniziare la presentazione di una strategia ciclico volumetrica per chi non mi conoscesse il mio nome è simone rubessi sono un trader della top trading academy durante questa spiegazione io guarderò spesso sulla mia destra non tanto perché non voglio guardare in camera ma perché siccome siamo online sia su youtube che facebook e su zoom ho qui le varie chat per monitorare che sia tutto chiaro e per rispondere a eventuali domande quindi qualsiasi cosa non sia chiaro mi raccomando fatemelo sapere è molto importante seguire passo passo tutti i concetti ok rimanete fino alla fine perché facciamo un'analisi a mercati aperti e per chi rimane fino alla fine gli verrà regalato anche un ebook che potrà leggere di un assoluto valore gratis ok prima di iniziare farò l'introduzione ai cicli di borsa concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello del calibro di black rock per esempio che avendo ingetti quantità di titoli future eccetera da acquistare o vendere e pianificando differenti temporalità di investimento generano andamenti regolari questo che cosa significa in sostanza significa che il mercato ha questo tipo di andamento questo tipo di andamento si manifesta in conseguenza del denaro che entra e del denaro che esce ci sono dei soggetti come vi dicevo prima per esempio black rock che gestisce più di 9 mila miliardi e questo cosa vuol dire che nel momento in cui entrano con un ammontare di denaro così elevato inevitabilmente modificano l'andamento del prezzo stesso perché nel momento in cui noi siamo su un determinato minimo ed entrano massicce quantità di denaro succede che il prezzo si alza questo avviene perché il prezzo in borsa come anche nell'economia reale è dato dalla domanda e quindi quando c'è tanta domanda di un bene il prezzo si alza ok una volta che si arriva a un determinato massimo escono massicce quantità di denaro di conseguenza in questo modo l'offerta diventa superiore alla domanda e di conseguenza il prezzo scende qui rientrano massicce quantità di denaro prezzo si alza riescono prezzo scende così via ok questo è quello che succede costantemente in borsa a tutti i livelli quanto dura la lezione giusto per un'organizzazione familiare più o meno un'ora un'ora un quarto poi dipende anche dalle domande che mi fate più domande ci sono chiaramente più si allunga ok quindi il concetto di ciclicità un ciclo quindi è il tempo in cui il denaro entra fa sedere il prezzo il denaro esce e lo fa scendere questo avviene ripeto in tutte le temporalità nell'arco di qualche ora come nell'arco di anni dopo poi vedremo anche tutte le tipologie e quali sono le varie durate iniziamo con lo stabilire la regola principale cioè che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi e finisce su un successivo minimo dei prezzi e ne esistono di tre tipi rialzisti ripassisti e laterali consideriamo che il primo è il rialzista a questo tipo di conformazione quindi avrà una fase di rialzo più ampia rispetto alla fase di ribasso avrà un minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale ed avrà un massimo più vicino al minimo finale ok dopodiché ci sono anche cicli ribassisti cicli di questo tipo i quali avranno al contrario rispetto ai rialzisti la fase di ribasso più ampia di quella di rialzo il minimo finale più basso del minimo iniziale ed il massimo più vicino al minimo al minimo iniziale ok dopodiché ci sono i cicli in laterale quindi cicli che hanno i due minimi sullo stesso livello e la salita che è equivalente in termini di ampiezza alla discesa ci siamo quindi ci sono queste tre tipologie di cicli sui mercati poi andiamo a vedere anche sui prezzi qui invece vediamo quella che è la relazione che esiste fra i vari cicli qui prendiamo per esempio un ciclo rosso e quello che si osserva è che un ciclo rosso è formato da tre cicli blu i quali sono formati a due cicli verdi che hanno al loro interno tre cicli gialli la cosa importante da comprendere in questo caso è che un qualsiasi ciclo è formato da cicli inferiori e sarà parte di cicli superiori questo è un aspetto importante e la regola che vale sempre ed è sempre così è che quando inizia un qualsiasi ciclo come in questo punto iniziano sempre anche tutti i cicli inferiori quindi se inizia il ciclo rosso automaticamente inizia il blu il verde e il giallo se finisce un ciclo automaticamente finiscono tutti i cicli inferiori quindi se finisce il rosso automaticamente finisce il blu il verde e il giallo un altro esempio è questo quando inizia il blu automaticamente inizierà anche il verde e il giallo anche se io non ce li ho davanti questa è una regola ciclica e funziona sempre ok poi vedremo come applicarla a una strategia operativa in un'analisi di borsa proprio qui vediamo un esempio che effettivamente si manifesta sui mercati abbiamo un ciclo mensile per esempio ciclo mensile che è composto di 32 giorni di borsa aperta che sono composti due cicli a 16 giorni di borsa aperta composti due cicli a una settimana che sono otto giorni di borsa aperta ora quando io parlo di periodo di borsa aperta bisogna tenere bene presente che si parla di periodo in cui la borsa ha effettivamente scambiato quindi la borsa ha effettivamente mosso del denaro siccome la borsa apre lunedì chiude il venerdì 32 giorni di borsa aperta non sono 32 giorni di calendario perché in un mese abbiamo quattro settimane da cinque giorni di borsa aperta dal lunedì a venerdì va da sé che in una settimana ce ne sono cinque giorni di borsa aperta in un mese 20 quindi un ciclo mensile che ne ha 32 sarà circa un mese e mezzo stessa cosa è circa 16 giorni sono tre settimane da cinque giorni l'una più un giorno ok quindi non bisogna confondere il periodo ciclico dal periodo di calendario ok non è che un mensile dura un mese mensile dura 32 giorni di borsa aperta che sono un mese e mezzo ok questo è importante per evitare confusione qui vediamo un ulteriore concetto che è il concetto della tendenza vediamo che in questo caso il mensile è un ciclo rialzista il rialzista perché perché avrò il minimo finale più alto del minimo iniziale questo per spiegare che cosa che nel momento in cui un ciclo sale che nel momento in cui lui sta andando in salita influenzerà i sottocicli quindi se il mensile sta salendo il ciclo 16 giorni subirà quel tipo di tendenza il ciclo una settimana subirà quel ciclo di tendenza eccetera eccetera per fare un esempio un po più in scala è come se io avessi questo ciclo mensile con dentro due cicli 16 giorni con dentro due cicli a otto giorni con all'interno due cicli a quattro giorni qui chiaramente potrei scendere ancora però quello che in questo caso si vede più chiaramente rispetto all'immagine è che nel momento in cui il ciclo mensile sale sottocicli hanno questo tipo di conformazione quindi rialzista nel momento in cui il mensile scende i cicli hanno questo tipo di conformazione quindi ribassista ok pertanto noi per stabilire se un ciclo sale rialzista e ribassista dovremo guardare i cicli superiori anche in questo concetto scenderemo nei particolari nella parte operativa però mi interessava darvi già un ordine concettuale del fatto che una tendenza di un ciclo superiore influenzerà quella di cicli inferiori detto questo proseguiamo da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica dalla maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche dai cicli più lunghi a quelli più brevi partiamo considerando un ciclo mezzo secolare che è un ciclo estremamente lungo che immagino nessuno di noi sia interessato a tradare però lo prendiamo da un punto di vista didattico che è formato da due ventennali formati a due decennali formati a due cicli economici che durano all'incirca cinque anni ciascuno formati a due biennali i quali hanno al loro interno due cicli annuali e qui c'è una leggera variazione da circa sette anni a questa parte ovvero che il ciclo annuale non ha due semestrali ma al suo interno tre cicli intermestrali che hanno al loro interno tre mensili ciascuno ok questo è l'annuale questo è l'intermestrale questo è il mensile dato il mensile riprende la suddivisione classica quindi due cicli a 16 giorni due cicli a 8 giorni e così via fino a cicli che possono durare anche una sola ora l'analisi che faremo sarà su un giornaliero del dax quella che faremo in tempo reale a mercati aperti ok quindi fondamentalmente noi questi concetti li applichiamo a tutti i mercati e a tutte le temporalità sia che vogliamo fare un'operatività di breve che di medio di lungo periodo fino a qua è tutto chiaro per tutti datemi un feedback veloce in chat così se è tutto chiaro proseguo diciamo l'intermestrale è di tre mensili ognuno ok bene siccome sembra chiaro per tutti proseguiamo qui cominciamo a vedere un esempio sui mercati allora questo è un grafico di euro dollaro prendiamo euro dollaro così come esempio perché poi andiamo anche sul dax e prendiamo un periodo lungo perché poi vediamo anche il breve quindi voglio far vedere si applica su tutto sia nel lungo sia nel breve è un grafico con time frame a un giorno vuol dire che ogni candela rappresenta un giorno di contrattazioni e la cosa che si nota chiaramente è che esiste una ciclicità come abbiamo visto no non solo possiamo vedere anche questi sono tutti cicli biennali non esiste solo una esistono tutte le ciclicità dentro ogni grafico però chiaramente le prendiamo una alla volta quella che ci interessa ora prendiamo questa qua di lungo ma poi prendiamo anche quella di breve vediamo che ci sono ciclicità in laterale quindi un biennale in laterale perché hai due minimi sullo stesso livello c'è un biennale ribassista perché al minimo finale più basso di quell'iniziale vedete che era in fase di ribasso e doppia praticamente quest'altro è il laterale quest'ultimo invece è stato rialzista dico è stato perché il prezzo non è un'immagine di oggi ma il prezzo fatto così e poi è ripartito quindi il minimo finale non è mai sceso sotto il minimo iniziale detto ciò abbiamo capito che esiste una ciclicità quello che dobbiamo fare dal punto di vista operativo come trader ciclici è individuare le aree di minimo per comprare e vendere sulle aree di massimo semplicemente quando invece il ciclo è ribassista dobbiamo cercare le aree di massimo per shortare o si dice anche vendere lo scoperto e chiudere la posizione sui minimi quindi guadagnare da questa differenza di prezzo ok questo è concettualmente ciò che dobbiamo fare quindi tecnicamente farò vedere come farlo ma concettualmente semplice troviamo i minimi compriamo vendiamo sui massimi shortiamo sui massimi chiudiamo sui minimi ora la domanda immagino che sorga spontanea come faccio a capire se sono su un minimo se sono in salita se sono su un massimo se sono in discesa questo lo capiamo attraverso dei nostri indicatori il primo è questo che vediamo si chiama indicatore di ciclo come dicevo un indicatore unico nostro di cui abbiamo il copyright e non se ne trova da nessun'altra parte come si legge e che informazioni ci dà vi dico anche che è un indicatore automatico quindi una volta che noi lo settiamo lui si mantiene aggiornato in tempo reale non ha bisogno di ulteriore manutenzione si applica su tutto quindi ciclo giornalieri due giorni quattro giorni e su tutti i marcati detto questo andiamo a capire come funziona questo indicatore questo indicatore è formato da tre linee la linea continua che è la traiettoria del ciclo la linea tratteggiata orizzontale è l'asse dello zero la linea tratteggiata sinusoidale è la velocità del ciclo sinusoidale vuol dire che fa delle sinusoidi quindi delle onde ora andiamo a vedere come funziona allora noi dobbiamo guardare quando la linea tratteggiata fatta ad onda cioè la nostra velocità che ha la linea sinusoidale attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso in quel punto saremo in una zona di massimo quindi noi dobbiamo guardare questo punto qua cioè questo incrocio qui in questa direzione cioè quando io incrocio in questa direzione qua sono in un'area di massimo ok viceversa quando io ho l'incrocio opposto quindi se la linea tratteggiata cioè la velocità attraversa l'asse dello zero dal basso verso l'alto ci troveremo in una zona di minimo in questo caso quindi quando io ho questo incrocio fatto in questa direzione sarò in un'area di minimo semplice ok va da sé a questo punto che dobbiamo capire come applicare questi concetti all'operatività e vediamo degli esempi ok primo esempio è dobbiamo trovare il primo minimo primo minimo abbiamo detto che ce l'abbiamo quando la velocità da sotto incrocia sopra e questo è il primo minimo poi che cosa succede? che la velocità va sopra l'asse dello zero quando la velocità è sopra l'asse dello zero e fin tanto che la velocità rimane sopra l'asse dello zero mi indica salita sul mio ciclo di riferimento quindi salita 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 fino a qui a questo punto io ho l'incrocio dall'alto al basso quindi siamo in una zona di massimo qui ok questa è un'area di massimo di fatti se vado a vedere come si è comportato il prezzo da questo punto di incrocio a quest'altro punto di incrocio è andato nella direzione indicata cioè salita qui invece cosa succede? che la velocità va sotto l'asse dello zero indicandoci discesa qui ci indica discesa fin tanto che questa linea rimane sotto quindi discesa 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 fino a qui anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta qui nuovamente siamo in area di minimo perché abbiamo l'incrocio da sotto a sopra salita 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 fino a qua anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta qui nuovamente area di massimo discesa 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 fino a qua anche in questo caso abbiamo un'indicazione corretta da parte dell'indicatore qui nuovamente minimo salita 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 fino a qua anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione indicata dal nostro indicatore ci siamo chiara come funziona questo indicatore qua fatemi sapere non del tutto scusami che cos'è che non ti è chiaro fammi sapere così magari mi spiego meglio ma tu semplicemente devi guardare la velocità ok la velocità abbiamo detto che è la linea tratteggiata sinusoidale quella che ho fatto verde e rossa quando la linea tratteggiata incrocia l'asse dello zero l'ultima sezione qui intendi qui semplicemente mi dà una salita rimane salita 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 fino a qua intanto che la velocità è sopra siamo in salita semplicemente quando invece incrocia dall'altra parte siamo in un'area di massimo chiaro che questo indicatore non è che è una sentenza cioè mi dà delle aree no ovvio è che non esiste un indicatore che vi dà il minimo assoluto o il massimo assoluto con certezza questa è un'utopia ma non è neanche necessario cioè a noi interessa evidenziare delle aree di minimo per comprare e vendere nelle aree di massimo avendo un determinato tipo di ritorno sul rischio che poi vediamo che cos'è e avendo un certo tipo di affidabilità della strategia questo ci interessa perché ripeto è impossibile beccare il minimo il massimo assoluto dobbiamo individuare dove comprare e dove vendere per tutti gli altri è chiaro come funziona o ci sono domande non fatevi problemi a chiedere datemi un feedback se è chiaro se ci siete bene gli altri bene perfetto ottimo cosa determina lo zero lo zero viene determinato dall'indicatore dal suo algoritmo interno e determina la linea di demarcazione fra salita e discesa quindi i punti di svolta questo è un indicatore che utilizzi esatto è un indicatore che abbiamo creato noi come dicevo prima e di cui abbiamo il copyright e non esiste da nessun'altra parte e ce lo possono avere solo i nostri utenti ce ne sono altri certo ora ne vedremo un altro e poi vediamo come si applicano in una strategia operativa lo scopo di questa serata è questo è capire in che modo la ciclicità ti può aiutare nell'operatività e soprattutto perché dovresti utilizzare un tipo di analisi ciclica e volumetrica perché lo scopo è andare a capire come si muovono i capitali ottimo molto bene passiamo al DNA il DNA è un algoritmo che elabora un'analisi del passato ed adesso sviluppa un'ipotesi di futuro possibile chiaramente l'ipotesi è possibile e non sicura perché il 100% in borsa non esiste ed è un'ipotesi chiaramente probabilistica dato che non esiste la certezza nel futuro questa ipotesi ha un certo tipo di probabilità che poi vediamo qual è ed è un'ipotesi ciclica ossia relazionata ad un ciclo di borsa cioè noi andiamo a fare delle proiezioni cioè questo indicatore fa delle proiezioni future sul ciclo di riferimento cioè se noi mettiamo il dna del giornaliero avremo la proiezione futura del giornaliero se lo mettiamo sul mensile avremo la proiezione futura del mensile se lo mettiamo sul tre ore avremo la proiezione futura del tre ore e così via come dicevo essendo una previsione probabilistica possiamo affermare in relazione ai test su dati storici che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame in che modo più è lungo il periodo e meno probabilità d'errore alla previsione questo perché perché considerate che per le mani forti cioè per i grandi istituzionali che manipolano al mercato è richiesto molto meno capitale creare una finta all'interno della giornata operativa piuttosto che fare una finta nell'arco di dieci anni cioè su un periodo decennale di conseguenza più il periodo è corto e più sono richiesti meno soldi per creare scombussolamenti di prezzo ma questo non è un problema tra virgolette nel senso che anche nel brevissimo periodo si può utilizzare il sistema senza problemi e poi arriviamo a tutto cominciamo a vedere il DNA il DNA è questo indicatore verde è un indicatore diciamo frastagliato verde e l'altro è il prezzo quindi è dato da candele verdi e candele rosse anche in questo caso siamo in un periodo biennale perché come dicevo prima vediamo sia a lungo che il breve periodo e la cosa importante da capire è la seguente prima di spiegare le caratteristiche di questo indicatore dobbiamo vedere una cosa abbiamo visto che ci sono cicli rialzisti e cicli ribassisti cicli rialzisti hanno la fase di rialzo più ampia di quella di ribasso minimo finale più alto del minimo iniziale ed il massimo più vicino al minimo finale cicli ribassisti viceversa hanno il minimo finale più basso la fase di discesa più grande di quella della salita il minimo è più vicino al minimo iniziale che rimane più alto ora questo indicatore come dicevo è ciclico qui lo vediamo su un biennale la prima caratteristica che ha è che è un indicatore cosiddetto su asse zero cosa vuol dire vuol dire che è un indicatore che mi dà una previsione futura di inversione a livello temporale ma non a livello di prezzo fatemi fare degli esempi perché vi sarà più chiaro allora supponiamo che questa sia la linea del tempo ok abbiamo detto che è un biennale supponiamo che questa sia la data di oggi oggi è il 13 7 2023 mettiamo che sia partito il 12 1 del 23 e che il massimo me lo faccia il 14 1 del 2024 ed il minimo finale me lo fa magari il 10 1 del 2025 ok quindi tutto il ciclo è due anni e io ho queste date ok questo indicatore mi sta dicendo da oggi che siamo qua al tuo massimo che è il 14 di gennaio 2024 quindi sono più o meno sei mesi tu avrai una salita ok ma non mi dice se la salita arriverà qua se arriverà qua in cima se arriverà qui semplicemente mi dice da qua a quella data ci sarà salita poi mi dice che da quella data al 10 gennaio 2025 ci sarà discesa ma anche qui non mi dice se la discesa arriverà qua se arriverà qua o se arriverà qui in fondo questo lo devo capire lo devo sapere anzi non capire dalla tipologia di ciclo che sto osservando vi spiegherò poi come capire anticipatamente se siamo davanti a un ciclo rialzista o ribassista facciamo tutte e due le casistiche per capire ma poi non ne avrete bisogno cioè voi sapete già prima ancora che parta se quel ciclo sarà rialzista o ribassista ciclo rialzista io che cosa mi devo aspettare beh io a questo punto mi aspetterò un'andatura di questo tipo perché devo avere minimo finale più alto del minimo iniziale il massimo più vicino al minimo finale se invece sono davanti a un ciclo ribassista io mi aspetterò qualcosa di questo tipo quindi devo avere il minimo finale più basso del minimo iniziale il massimo più vicino al minimo iniziale di conseguenza se io mi trovo nella casistica verde io qua compro e qua sopra vendo guadagno questa differenza se mi trovo nella casistica rossa io qua vendo e chiudo la posizione qui e guadagno da questa discesa ok queste sono le due tipologie però noi sapendo prima se siamo da una o dall'altra parte vi spiegherò poi come come saperlo prima ancora che parta sappiamo esattamente dove siamo dove stiamo andando e che tipo di tendenza aspettarci chiaro questo ditemi se mi sono spiegato oppure no fatemi sapere in chat ottimo gli altri bene 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 perfetto ottimo molto bene detto ciò proseguiamo eravamo arrivati al fatto che più è lungo il periodo di tempo più è difficile per le mani forti creare scossoni di che percentuale di correttezza stiamo parlando di questo indicatore beh parliamo di una correttezza che parte da un 40% del giornaliero fino ad arrivare a un 75% di un ventennale ora molte persone possono pensare che il 40% è poco che cavolo il 40% tiro la moneta ho più probabilità di beccarci tra virgolette non c'è niente di più sbagliato nel trading perché perché noi dobbiamo operare sempre solo quando abbiamo un ritorno su rischio che deve essere uguale a 4 cosa significa questo questo significa che io devo operare quando il mio target di guadagno di quell'operazione è 4 volte superiore al rischio quindi se il mio target è 400 punti il mio rischio è 100 se il mio target è 800 punti il mio rischio è 200 se il mio target è 1000 il rischio è 250 e così via quindi se noi applicassimo sempre questo il tono su rischio posto che bisogna capire come farlo il lungo periodo non può essere profittevole secondo me in base a cosa mi dici questo qual è il ragionamento che hai fatto per dire questo la matematica quale matematica la matematica ti dice che in realtà sei costantemente profittevole a patto che adesso te lo te lo spiegherò proprio perché la matematica non è un'opinione adesso andiamo a vedere allora se io opero sempre solo con questo ritorno sul rischio il 40% di operazioni corrette vuol dire 4 su 10 ok 4 operazioni su 10 che mi generano 400 punti io genero 1600 punti all'estanti 6 operazioni che sbaglio mi fanno perdere 100 perché io ho sempre il ritorno sul rischio 4 dove perdo 600 quindi io ho un netto di 1000 punti solamente con 4 operazioni giuste su 10 e queste 4 io le sto considerando solo guardando il dna giornaliero ma la strategia non è composta solo dal dna giornaliero è composta da altri indicatori tieni conto che questa strategia al suo completo genera 6 barra 7 operazioni giuste su 10 quindi le 7 operazioni giuste su 10 che mi generano 400 punti mi fa guadagnare 2800 restanti 3 che sbaglio perdo 100 ciascuna perdo 300 2800 l'incasso 300 li perdo io ho un netto di 2500 euro quindi io non so in base a cosa tu hai ragionato che nel lungo periodo è meno performante dato che nel lungo periodo il dna è più preciso quindi dovrebbe essere più performante nel lungo periodo allora ma se su 500 trade se utilizzo questo pensiero unico può succedere quindi che io faccia anche più di 15 operazioni in perdita e sia emotivamente che economicamente molto destabilizzante non so se riesco a spiegarmi allora ho capito cosa intendi però in realtà no ti spiego il motivo perché posto che tu con la strategia per intero fai 7 operazioni giuste su 10 quindi hai il 70% di probabilità di andare a segno e quando vai a segno guadagni 4 volte tanto quindi non è possibile che tu faccia 15 operazioni di fila in stop perché ripeto il 70% di quelle operazioni deve andare a profit quindi tu ogni 10 operazioni ne farai 7 giuste e 3 sbagliate primo punto secondo punto tu puoi anche sbagliarne 3 di fila ok ma la prima che vai in profit recuperi tutto e sei in guadagno capisci ti garantisco che se ne fai più di 4 o 5 sbagliate stai sbagliando qualcosa ma in base a cosa inseriamo le operazioni se sbagliamo la strategia ora arriviamo anche a quello Federico ora stiamo passando step by step tutte le caratteristiche che una strategia deve avere e le percentuali di cortezza di un singolo indicatore poi ripeto noi operiamo su questa base non su questa questa è l'estremizzazione del concetto cioè noi con questo ritorno sul rischio noi potremmo farne giuste anche 3 se io faccio 3 operazioni giuste dove guadagno 400 io incasso 1200 per le stanti 7 che sbaglio mi fanno perdere 700 1200 meno 700 o comunque un netto di 1000 di 500 scusate quindi di fatto io potrei anche solo farne 3 chiaro che se ne faccio solo 3 su 10 vuol dire che non sto applicando la strategia ma anche in quel caso sarei performante è chiaro e batte bene che il ritorno sul rischio è una delle parti vitali di una strategia perché posto che forse il 5% delle persone sa come calcolarlo e è pieno il mondo di persone che fanno 90% delle operazioni in profitto poi ne sbagliano una e bruciano il conto capite bene che questo non è un'ottima strategia non è un corretto money management cioè noi dobbiamo per riuscire a essere performanti nel lungo periodo cioè oggi domani fra 10 anni fra 100 anni ammesso che siamo ancora qua dobbiamo sapere A quante operazioni giuste faccio su 10 B sapere quanto guadagno quando vado a segno e quanto perdo quando perdo C questi concetti devono basarsi su delle fondamentali economiche perché se non si basano su delle fondamentali economiche prima o poi non funzioneranno così e devo avere una corretta gestione del capitale se mi manca anche una sola di queste caratteristiche io prima o poi brucerò tutto abbiamo incominciato alle 20 Lorenzo comunque rimani in linea perché alla fine ci sarà un'analisi a mercati aperti poi potrai vedere la prima parte in registrazione domani mattina ti arriverà funziona principalmente in quali strumenti finanziari funziona su tutti gli strumenti finanziari e su tutte le temporalità sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo perché perché tutti i mercati sono manipolati noi andiamo a individuare la manipolazione che è fatta dal denaro e da lì riusciamo a seguire questi andamenti chiaro per tutti il concetto di ritorno sul rischio e perché è così importante quindi diciamo che se un'operazione va in perdita esiste un altro indice o asset che invece potrebbe andare dal lato opposto e così compensare la perdita non per forza chiaro che se tu operi su più mercati sì ma qui stiamo ragionando anche solo su un mercato mettiamo che io perdo perdo 10 euro ti faccio un esempio io perdo perdo 10 euro poi faccio un'altra operazione guadagno e ne guadagno 40 euro perché il ritorno sul rischio è di 4 volte poi perdo un'altra operazione e perdo 10 e faccio un'altra perdo e perdo 10 quindi ho fatto 3 operazioni perdenti ho perso 30 ne ho fatta una vincente ho guadagnato 40 dopo ne faccio 4 giuste 40 40 40 e a quel punto sono in profit e in maniera significativa chiaramente se noi applichiamo questo concetto a più mercati ancora di più però anche se noi operassimo su un solo mercato questo concetto rimane valido perfetto l'abbiamo spiegato poco tempo fa il dna come funziona adesso andiamo avanti finora ci siamo tutti o ci sono domande? ma il ritorno è una questione di leva finanziaria assolutamente no il ritorno è una questione di target rispetto al rischio non è una questione di leva finanziaria per la finanziaria in questo caso non c'entra nulla il ritorno se io ho un target di 400 punti sono 400 punti sia che ho leva 1 sia che ho leva 1000 e il mio rischio deve essere di 100 punti sia che io abbia leva 1 sia che io abbia leva 1000 capito? la leva finanziaria ci può aiutare ad aumentare la profittabilità ma non deve farci uscire da determinati parametri di gestione corretta del capitale qui entriamo un po' più nel tecnico però tu tieni in considerazione che ogni operazione non deve mettere a rischio mai più del 5% il che vuol dire che se tu hai un ritorno sul rischio 1 a 4 il tuo rischio mettiamo che è il 5% il tuo target deve essere il 20% perché è 4 volte tanto ok? questo 5% è il 5% sia con leva 1 che con leva 1000 punto chiaro? ok essendo quindi la previsione del DNA chiaramente inerente ad un determinato ciclo può essere utilizzata con profitto durante gli investimenti o nel trading di lungo periodo per fare ciò dobbiamo capire i punti di forza di debolezza del DNA finché lo si possa utilizzare al meglio questi punti sono i punti che abbiamo appena spiegato ma li riepiloghiamo cioè che è sviluppato su asset 0 quindi senza tendenza cioè mi fa mi dà una previsione futura dal punto di vista temporale ma non a livello di prezzo l'abbiamo visto no? essendo ciclico sviluppo una previsione dei prezzi in relazione al ciclo su cui è tarato cioè se io ho un DNA del giornaliero farà la previsione futura del giornaliero se io ho un DNA di un tre ore mi dà la previsione futura del tre ore se ce l'ho su un biennale ho la previsione futura a due anni ok? permette di individuare massimi e minimi con strabiliante precisione e questo è l'esempio di prima qui vi voglio far vedere un'ulteriore miglioria un'ulteriore approfondimento che può essere sicuramente molto utile in questo caso questo grafico bianco è un grafico del Futsimib con time frame a cinque minuti ok? qui ci sono due DNA uno a quattro giorni e uno a due giorni quello sopra questo qua verde è un quattro giorni e questo qui è un due giorni perché ho settato due DNA di due cicli diversi? per un principio spiegato nella parte iniziale ma fondamentale io all'inizio vi ho spiegato che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo ve lo faccio vedere qua il momento in cui parte un qualsiasi ciclo partono sempre anche tutti i cicli inferiori quindi se questo è il quattro giorni questo è il due giorni questo è il giornaliero che è il quattro giorni formato da due due giorni e da quattro giornalieri quando parte il quattro giorni automaticamente parte il due giorni automaticamente partirà il giornaliero e così via fino a scendere stessa cosa quando finisce cioè quando finisce un quattro giorni finiscono tutti i cicli inferiori quindi finisce il quattro finisce il due finisce il giornaliero quindi se io setto due DNA uno del quattro e uno del due e nel momento in cui il DNA del quattro mi dà il minimo anche il DNA del due mi deve dare il minimo perché se lì parte quattro deve partire anche il due ovviamente questo capita nella stragrande maggioranza delle volte quando non è così chiaramente uno dei due sbaglia e noi ci asteniamo dall'operatività noi dobbiamo operare quando le probabilità sono maggiormente dalla nostra parte e e operare con magari più capitale rispetto a prenderci dei rischi inutili in questo caso noi vediamo che chiaramente qui collimano come la stragrande maggioranza delle volte e quando è così le mie probabilità di correttezza aumentano quindi quali sono i possibili scenari in base a questa immagine anche qui facciamo sia lo scenario di rialzista che quello di bassista ma come vi ho detto noi sapremo anticipatamente se il ciclo che stiamo tradando è rialzista o ribassista ok prendiamo prima il ciclo rialzista abbiamo detto che il ciclo rialzista è così quindi minimo finale più alto di quello iniziale fase di rialzo più ampia di quella di ribasso ed il minimo finale più alto di quello iniziale ed il massimo più spostato verso quello finale quindi io da questo da questo prezzo io mi aspetto un andamento di questo tipo ovviamente perché mi aspetto un andamento di questo tipo io devo avere il minimo finale più alto di quello iniziale qui ho il massimo del primo due giorni che collima con questo qui mi fa un minimo del primo due giorni questo punto ma chiaramente il minimo deve essere superiore a quello di inizio e il massimo del secondo due giorni collimerà col massimo del mio quattro giorni quindi io qui avrò un ciclo quattro giorni scusate avrò un ciclo a quattro giorni così con dentro due cicli a due giorni ok ora vediamo nel caso in cui questo ciclo sia ribassista questo quattro giorni sia ribassista quattro giorni una ribassista abbiamo visto che è così fase di ribasso più ampia di quella di rialzo minimo finale più basso di quello iniziale ed il massimo più vicino al minimo iniziale quindi in questo caso io mi devo aspettare dal prezzo una cosa di questo tipo dove avrò il massimo del primo due giorni che collimerà con questo massimo di prezzo minimo del primo due giorni che più o meno sarà a livello del minimo iniziale massimo nel secondo due giorni intorno al minimo precedente o addirittura più basso e in questo caso io avrò il mio quattro giorni ribassista con all'interno due cicli a due giorni ok chiaro come si interfacciano anche i dna di cicli diversi abbiamo compreso il concetto di ciclicità se è tutto chiaro possiamo cominciare a vedere un esempio cioè ecco cominciamo a aprire il grafico in tempo reale in sostanza andare a fare delle considerazioni sulla situazione attuale del giornaliero del DAX e fare delle ipotesi gli altri ci sono domande su questo bene ok visto che siamo tutti lo faccio su euro dollaro semplicemente perché ho preparato il DAX ma sull'euro dollaro non cambia nulla esattamente nulla vediamo la strategia ovviamente ognuno ha le sue preferenze ma cambia poco eccoci qua allora qui siamo davanti a un indicatore di ciclo sotto giornaliero questo è il DAX in tempo reale qua vedete il prezzo che sta andando qui abbiamo il prezzo sopra e qui abbiamo il DNA del giornaliero che mettiamo un po' più al centro eccolo qua ora prima di fare delle considerazioni su questo grafico qui fare le previsioni per domani devo spiegarvi ancora un concetto importante allora abbiamo visto che ci sono i cicli rialzisti e ribassisti abbiamo anche visto che i cicli rialzisti hanno la fase di rialzo più ampia i cicli ribassisti le fasi di ribasso più ampia quindi a livello operativo io nel ciclo rialzista opererò sempre opererò solo ed esclusivamente il long lo short che è questa piccola parte non la prendo in considerazione dal punto di vista operativo ciclo ribassista prendo in considerazione operativamente parlando solo lo short il long non lo prendo in considerazione quindi queste due fasi non si tradano ora qui potrebbe nascere una domanda ma come mai non le trado se comunque riesco a individuare la ragione è perché in queste due fasi il ritorno su rischio è sicuramente inferiore a 4 quindi non mi interessano talvolta è inferiore di 1 addirittura quindi sono operazioni proprio che non ha nessun senso fare ma anche perché tanto vale aspettare qualche ora e beccarsi una tendenza ben più forte ci siamo? detto ciò se è tutto chiaro vediamo come capire se un ciclo è ribassista il ritorno non va in stop loss cosa intende il ritorno non va in stop loss? la mia operatività è da minimo a massimo il ritorno non c'entra nulla la mia operatività inizia qua e finisce qua su questo ciclo prendo la salita io trado in questo caso il giornaliero non mi interessa di prendere anche di uscire qui se è più basso del massimo e sul ciclo ribassista la mia operatività inizia qui al ribasso e finisce qui prendo questa discesa punto chiaro? l'operatività è sempre o da minimo a massimo o da massimo a minimo mi state seguendo gli altri? mi sento un po' assenti alcuni che avete capito o perché non mi seguite datemi un feedback ok molto bene ok ok a questo punto noi dobbiamo capire quando un ciclo ogni barra è un minuto e il periodo totale dei prezzi è di circa un giorno il time frame è un minuto e noi siamo interessati a cicli giornalieri questi sono giornalieri stringo un po' questo è un giornaliero questo è un giornaliero quest'altro è un giornaliero e così via ok ora però io per sapere se devo andare long o se devo andare short devo sapere se il ciclo che andrò a tradare sarà rialzista o ribassista per capire ciò io devo andare a vedere come avevamo detto prima i cicli superiori quali nello specifico dobbiamo vedere un ciclo di quattro ordini superiore partendo da quello che mi interessa quindi giornaliero è quello che mi interessa due giorni quattro giorni otto giorni quindi io devo prendere un otto giorni e da qui io ho delle informazioni molto molto importanti questo è un otto giorni parte da qua e fa questo ok so che questo è un otto giorni perché c'è settato un indicatore di ciclo con un periodo di otto giorni e oltre a vedere che questo è un otto giorni vediamo anche che in un otto giorni come è presumibile pensare abbiamo due tre quattro cinque sei sette otto giornalieri come è normale che sia e cosa vediamo anche vediamo anche che quando l'otto giorni sale quindi quando la sua velocità è sopra l'asse dello zero abbiamo dei giornalieri fatti così quando l'otto giorni scende abbiamo dei giornalieri fatti così cioè quando la sua velocità è sotto l'asse dello zero quindi noi per tradare il giornaliero dobbiamo guardare la velocità dell'otto giorni se la velocità è sopra sul giornaliero farò il long se la velocità è sotto sul giornaliero farò lo short diciamo che il motivo si vede molto chiaramente se io vado a a tracciare le salite qui questa non è la salita del giornaliero ma arriva qua se io traccio queste salite rispetto a queste in relazione alle discese c'è una bella differenza no? faccio anche le discese in viola così si capisce rispetto alla candela cioè come si può vedere le tendenze viola a destra sono enormemente più grandi rispetto a sinistra e se voi pensate di tradare entrambe le parti provate a fare questo piccolo long quando improvvisamente vi arriva una fiammata di questa portata vi garantisco che passate di brutti momenti mi fate molto male stessa cosa se cerco di prendere questa salita improvvisamente mi arriva la fiammata il time frame a 15 minuti corrisponde a 8 giorni no il time frame è arbitrario si può scegliere noi dobbiamo guardare il periodo ciclico il periodo ciclico è di un 8 giorni i miei 8 giorni io li posso guardare a un minuto a 5 minuti a 15 minuti a un'ora non fa nessuna differenza sempre un ciclo 8 giorni sto guardando ok chiaramente non posso guardare il ciclo giornaliero con candele daily perché in una candela c'è un ciclo ovviamente no però sarebbe come dire che devo misurare questa distanza di questa birro ok questa è la distanza che mi interessa questa birro io la posso misurare in centimetri millimetri chilometri o anni luce ok ma sempre questa distanza in questo caso sono 8 giorni teorici ma in pratica dal giorno 9 al giorno 20 ma in pratica dal giorno 9 al giorno 20 questa affermazione significa che o ti sei perso la prima parte iniziale o non sei stato tanto attento abbiamo detto che i cicli sono cicli di borsa aperta ok non periodi di calendario quindi un 8 giorni dura una settimana e mezza quasi perché in una settimana abbiamo 5 giorni di borsa aperta quindi andrebbe mettiamo che parte lunedì quindi va da lunedì a mercoledì dopo poi ovviamente non è che tutti i cicli durano esattamente 8 giorni può durare anche 9 c'è una dilatazione però dal punto di vista della tendenza non mi fa nessuna differenza nel senso che se io io devo comunque guardare la mia velocità se la velocità è sopra io nel giornaliero vado in su se la mia velocità è sotto nel mio giornaliero vado in giù vi è chiaro anche il discorso del time frame che ho appena spiegato perché è importante bene ok quindi come dicevo cioè se voi tentate di fare questi piccoli rimbalzi quando improvvisamente ci sono delle fiammate contrarie garantito che perdete soldi anche se cercate di prendere questo e non ha nemmeno senso tanto vale aspettare qualche ora e prendersi una tendenza di un certo tipo anche perché quando la velocità è così bassa non vi arriva la fiammata a rialzo non succede quindi nel momento in cui voi evidenziate dei massimi e vi mettete short entrate a cuore leggero tra virgolette ok stessa cosa a sinistra cioè se voi tentate di fare questi piccoli ribassi quando improvvisamente parte la fiammata a rialzo è garanzia di bruciare soldi dovete semplicemente trovare i minimi minimi e andare a long punto con un 8 giorni che spinge e se entrate sul minimo giornaliero vi può venire contro un po' ma poi parte la fiammata non succede che vi arriva l'arba tosta come a destra non succede ok quindi noi dal punto di vista operativo cosa facciamo noi andiamo a fare questo entriamo long usciamo sul massimo qui usciamo aspettiamo il minimo andiamo long e usciamo aspettiamo il minimo andiamo long usciamo aspettiamo il minimo andiamo long e usciamo e qui dentro avete i corretti ritorni sul rischio per farvi un esempio banale prendiamo questo giornaliero qui che non è nemmeno tra i più tra i più performanti stiamo parlando di dette in considerazione che mediamente un giornaliero del DAX fa 200 punti da 15.387 a 15.581 sono circa 200 punti sì contro una discesa di 60 di 60 quindi ho 200 punti di salita e una discesa di 60 allora in questo caso la discesa sarebbe meno di un terzo della salita ok ma badate bene che il mio rischio non è tutta la discesa perché io non è che entro il long qua sopra che mi becco 60 punti contro io entro già sul minimo quindi se io entro già qua sul minimo ho davanti 200 punti di salita più o meno ma indietro me ne verranno 10 o 20 quindi il mio ritorno sul rischio in quelle fasi è ancora più alto rispetto a una 4 capito? quindi il long finisce sull'asse dello 0 e volendo si prende poi successivamente lo short su quale base ci aspettiamo il minimo ci devono essere delle confluenze allora ti rispondo entrambe le domande qui io ti sto facendo vedere solo ed esclusivamente se devi andare long se devi andare short e in quali fasi ma il long e lo short viene stabilito dal giornaliero cioè da questa immagine che poi vediamo non da questa qui stabilisce solo la direzionalità ok perché proprio per quei motivi che abbiamo appena detto cioè noi dobbiamo capire se noi stiamo andando verso un giornaliero come quelli che ci sono qua a sinistra o su un giornaliero di questi qui a destra ci siamo quindi io devo fare la mia operatività in relazione alle linee gialle dopodiché arriviamo anche qua qui volendo ci può essere un ulteriore tipo di ragionamento cioè io sono qua ho una velocità che ormai prossima a rompere l'asse dello zero al ribasso sono passati quattro giornalieri quindi io sono a metà del mio otto giorni il mio otto giorni sta per cambiare tendenza quindi posso fare due ragionamenti o dico ok ormai il mio otto giorni è arrivato aspetto questo giornaliero non lo considero perché tanto so che mi inverte e nel momento in cui arrivo al nuovo minimo vedo che la velocità è sotto quindi aspetto al massimo via short aspetto al massimo via short aspetto al massimo e via short chiaro? fin tanto che questa linea rimane sotto cioè questo grafico qua serve a capire dove io devo andare dal punto di vista della direzionalità perché? perché ti dà un quadro a 360 gradi so dove sei so dove sono e so dove sto andando in quella tendenza vado a evidenziare la mia operatività sì ma la domanda era diversa nel senso se parto in ritardo per diversi motivi e voglio entrare lo stesso la mia entrata sarà sul minimo e si poggerà sul massimo precedente no la tua entrata sarà sul minimo del successivo giornaliero mettiamo caso tu volevi entrare qui facciamo di un altro colore così si capisce facciamo bianco mettiamo che tu volevi entrare qui per qualche motivo non riesci a entrare tu non è che entri sul massimo sul massimo cioè sul minimo che poggerà sul massimo precedente no tu entri semplicemente sul nuovo minimo del giornaliero ma non non è detto che poggerà sul massimo il minimo lo fa sopra il minimo iniziale ma te lo può fare qua te lo può fare qua te lo può fare anche allo stesso livello ma questo come ti dicevo prima lo stabilisci dagli indicatori del giornaliero qui siamo sull'indicatore dell'otto giorni che ci fa capire solo in che direzione devo andare mi sono spiegato ottimo molto bene quindi vedete quanto è importante sapere dove si è e dove si sta andando qui il ritorno sul rischio vi fanno fare risultati molto importanti considerate che stiamo parlando del DAX che con un contratto pieno sono 25 euro a punto quindi 200 punti al giorno potenzialmente sono 5.000 euro al giorno un mini contratto sono 5 euro a punto quindi 200 punti fa 1.000 euro al giorno un micro contratto sono 1 euro a punto quindi 200 euro al giorno quindi considerate che le potenzialità di guadagno sono molto alte il contratto pieno è un future DAX poi ci sono i mini e i micro non è che è richiesto un importo quando tu operi sui future ma su qualsiasi derivato tu hai un margine di mantenimento il margine di mantenimento del DAX è di 2.500 euro chiaro che per poterlo tradare con tranquillità ci va un capitale intorno ai 40 50.000 euro però comunque sono potenzialmente migliaia di euro al giorno quindi sono percentuali importanti per iniziare sicuramente sono consigliati micro lotti micro contratti perché sono tradabili anche con un migliaio di euro un migliaio di euro di capitale in questo modo si può cominciare poi pian piano si va su ok ma il capitale per poter tradare invece bisogna ricorrere ad un prestito e purtroppo spesso anche utilizzare la leva allora non è che devi ricorrere a un prestito tu ricorri al tuo capitale che può essere fai di un minimo di 1000 euro in su in relazione al tuo capitale tu ti puoi permettere un certo numero di contratti un certo tipo di contratti chiaro che se hai 1000 euro non puoi comprare i contratti pieni questo è scontato dovrai comprare i micro contratti se inizi con 5000 puoi cominciare a fare 2 3 micro contratti micro DAX micro S&P 500 micro Eurostox micro Nasdaq senza nessun tipo di problema e il concetto della leva considera che tutti gli strumenti derivati sono leva quindi commodity indici ma la leva non è una bestia nera come tutti pensano la leva è la possibilità di comprare per più di più rispetto al proprio capitale ovviamente il fatto di poter comprare somme più elevate rispetto al proprio capitale ti può dare tanti vantaggi ma ti dà anche più rischio quindi è un vantaggio se controlli il rischio è il concetto che ti dicevo prima ritorno sul rischio ritorno sul rischio deve essere costante e il money management deve essere costante indipendentemente dalla leva è un po' come se io ti ti dicessi che differenza c'è tra una Ferrari e una Panda ok che la Ferrari ti dà prestazioni molto più elevate chiaro che se tu sai guidare la Ferrari avrai dei vantaggi ad avere prestazioni più elevate con la Panda non puoi schiantarti 200 all'ora con la Ferrari sì quindi se tu usi la Ferrari perché la sai usare la sai controllare la conosci hai dei vantaggi se non la sai usare è più pericoloso il concetto della leva è un po' lo stesso se tu controlli il rischio sai quanto ti devi esporre e hai una conoscenza la leva è un vantaggio se stai andando a caso allora lì avrai problemi ma il problema non è della leva il problema è nostro che andiamo a mercato senza cognizione nella maggior parte dei casi le persone entrano al mercato spesso e volentieri senza sapere dove sono cosa stanno rischiando e tutto è tutto il resto cioè la linea fra attività professionale e gioco d'azzardo è sottile ma è sottile perché perché dipende come tu l'approcci se tu prendi il trading e fai le cose a caso senza cognizione eccetera allora è un gioco d'azzardo se tu lo prendi con professionalità sai quello che fai sei dentro una statistica e la porti avanti allora diventa una professione questo è importante perché fa la differenza mi dico ok angelo perfetto ok detto questo andiamo alla situazione attuale ok allora questo è il grafico attualmente come vedete questi sono tutti cicli a otto giorni si vedono molto chiaramente non c'è bisogno che vi di evidenzi ma questi sono tutti cicli a otto giorni c'è anche il DNA oltre molti studenti mi prendono in giro perché faccio molte similitudine però penso che rendano rendano tanto il concetto per quello che rifaccio spero che l'appreziate al di là al di là dello scherzo allora vi sto dicendo questi sono tutti cicli a otto giorni e come si vede sono abbastanza palesi no e è anche palese che tutti i giornalieri qui dentro siano fortemente influenzati dalla tendenza rialzista ed è importante fare i long qui dentro se fate i long fate i soldi qui dentro dovete fare i short se qui dentro fate i short fate i soldi diversamente vi fate male ok qui ancora di più guardate che bella discesa che ho fatto se qui facevate i short è festa se se facevate i long vi sareste fatti male quindi in base a quello che abbiamo detto fino ad ora e in base alla situazione dell'otto giorni che presenta la velocità sopra l'asse dello zero siamo probabilmente vicini a un massimo ma siamo ancora verso una salita sul nostro giornaliero dobbiamo cercare un minimo per fare un long o dobbiamo cercare un massimo per fare un short punto di domanda fatemi sapere in chat dai azzardate qualche ipotesi così tanto non si perde nulla anche a sbagliare la domanda è in base alla situazione dell'otto giorni attuale io sul giornaliero devo cercare un long quindi aspettare un minimo per comprare o aspettare un massimo per vendere devo fare un long o devo fare un short sul giornaliero in base a questo a questo scenario ok due long e uno short un altro long ok aspetto il massimo per shortare questo ci può stare aspettiamo il massimo cioè la velocità in crociazione di zero ok allora long è giusto perché comunque la tendenza è ancora verso l'alto aspettare il massimo per shortare può essere giusto perché chiaramente siamo vicino a un massimo quindi sarebbe un approccio ancora più prudenziale ma va bene la cosa sbagliata è lo short non bisogna fare lo short perché l'otto giorni sta ancora salendo ricordiamoci che la salita termina quando questa velocità incrocia l'asse dello zero questo è il punto di svolta cioè anche se la velocità scende e il prezzo sale quindi noi o aspettiamo questa inverta quando ho questa inversione e il prezzo fa questo cominciamo ad andare in short se no fare un short ora è sbagliato ok comunque non c'è problema anche chi ha sbagliato non c'è problema l'importante è che abbia compreso bene ci siamo quindi o io faccio il long perché la tendenza sta ancora salendo se voglio essere ancora più prudenziale aspetto l'inversione ora in base alla strategia però dovremmo fare il long ok a questo punto potrei shortare anche senza aspettare la linea dello zero no perché se tu shorti senza aspettare la linea dello zero prendi una bastonata nei denti perché il prossimo giornaliero probabilmente farà questo e se tu qui prendi uno short questa salita te la prendi te la prendi nei denti ci sei noi dobbiamo tradare sempre nella direzione del nostro ciclo di riferimento sempre chiaramente questo vale per tutti i cicli cioè se io voglio tradare un tre ore il mio ciclo di riferimento sarà giornaliero se voglio tradare un quattro giorni il ciclo di riferimento sarà il mensile voglio tradare il mensile il ciclo di riferimento annuale questo vale sempre potrei mediare nel caso facessi un errore simile no mediare è un è una tecnica che per me è totalmente inutile ed è un modo per non accettare la perdita se tu medi hai due problemi primo che stai congelando una perdita momentanea no il problema è che se tu medi mettiamo che tu stai perdendo 100 euro tu apri una posizione uguale al contrario mettiamo che il prezzo continua a andare nella direzione opposta quindi tu accumuli 200 euro di perdita ma ne incrementi 100 di guadagno hai sempre il problema di 100 euro di perdita che ti rimarrà hai doppie commissioni in entrata e uscita perché tu stai aprendo una posizione per neutralizzare terzo non è detto che esci nel momento giusto perché se tu ti porti dietro una perdita chiudi quella in guadagno ma poi quella in perdita continua a salire ti porti dietro un'ulteriore perdita che è totalmente inutile cioè noi dobbiamo fare un'operatività che ha una percentuale di stop e dobbiamo accettarlo non si può avere il 100% in borsa e in borsa il nostro stop loss è il nostro costo aziendale cioè chi fa il fornaio non è che si lamenta quando compra la farina sa che la farina è sul costo aziendale venderà il pane più caro quello è sul guadagno il trading è quello il trading noi abbiamo come costo aziendale di stop loss non esiste un'azienda che fa solo profitti ci sono anche i costi e nel trading sono gli stop loss dobbiamo accettarlo se noi prendiamo lo stop loss come un fallimento personale e cerchiamo di strafare per recuperare facciamo dei danni ve lo dico perché ci sono passato anch'io in primis come tutti ma bisogna cambiare quel tipo di approccio ok quindi non potrei aggiungere tipo altri lotti e mediare se ne aggiungono no no perché è totalmente inutile parli delle candele rosse ovviamente le candele rosse cosa intendi perché vedo un po' di short prima che la velocità arrivi allo zero sì ma quello short lì non ha il ritorno sul rischio quattro perché sei contro tendenza dichiaro Angelo che noi stiamo cercando di tradare un ciclo indipendentemente dalle candele le candele non contano nulla noi stiamo cercando dei cicli dentro questa salita ci sono dei cicli ok che sono questi questi sono cicli giornalieri questi cicli giornalieri hanno delle salite infinitamente più pronunciate rispetto alle discese fin tanto che questi otto giorni sale noi avremo dei cicli fatti così quindi noi non dobbiamo cercare questo piccolo ribasso a fronte di una partenza di questo tipo perché qui abbiamo un ritorno sul rischio che è meno di uno sì diciamo sì è giusto la mediazione si apre nella stessa direzione o non opposta sì corretto io intendevo aprire una una posizione uguale contraria per neutralizzare la perdita ma anche la mediazione è sbagliata perché se tu medi tu stai abbassando o alzando il prezzo medio di acquisto ma quello che succede quando tu medi è che ti va va a farsi benedire quello che è il money management perché se tu puoi rischiare mettendo un contratto il 5% del tuo capitale se tu vai a mediare il tuo rischio si accumula il grafico che scende è il DNA abbiamo visto prima il DNA mi dà una previsione futura di inversione sì sì è giusto è giusto ci sei angelo che sa che non hai capito ok comunque vedrai la la registrazione del video poi se hai bisogno di chiarimenti ci possiamo sentire telefonicamente ok assodato il fatto che dobbiamo fare i long noi adesso dobbiamo prendere il giornaliero il giornaliero che è questo qui bianco in che fase il giornaliero è partito qua da questo minimo del DNA questo minimo è iniziato il giornaliero e la velocità è andata sopra qui siamo nell'area di massimo siamo arrivati nell'area di massimo perché la velocità è andata sotto e siamo in corrispondenza di un massimo di un DNA quindi noi adesso sappiamo di essere sul massimo del nostro giornaliero ora dobbiamo fare lo short ovviamente no perché abbiamo detto che la tendenza sta salendo quindi noi dobbiamo aspettare il minimo quindi quello che io mi aspetto da parte del prezzo è questo intanto la velocità farà questa cosa qui e io avrò questo minimo qui superiore al minimo iniziale se questo ciclo è rialzista quindi quando arrivo qua su questo minimo qui corrispondenza minimo del DNA rottura della velocità se l'otto giorni ha ancora la velocità sopra l'asse dello zero questo per me è un ingresso long e farò questo tipo di operatività quindi da qua ha il suo massimo che avrà corrispondenza della rottura della velocità opposta e avrò anche un probabile massimo il DNA ok questo è il mio ingresso e questa è la mia uscita perché la direzionalità dell'otto giorni è a salire se su questo massimo mettiamoci su questo massimo qui l'otto giorni inverta cosa devo fare? io poi devo cominciare a fare il short qui entro short perché cicli successivi faranno questo e farò il contrario tutto chiaro? ok bene gli altri no no è su tutti i mercati come dicevo prima si applica a tutti i mercati e a tutte le temporalità quindi qui stiamo guardando un giornaliero del DAX potremmo guardare il mensile di Fiat potremmo guardare il tre ore dell'oro potremmo guardare il mensile di euro dollaro tutto tutto ha un concetto di manipolazione programmata noi siamo arrivati a questi strumenti dopo veramente moltissimi anni di studi test e soldi persi sui mercati questi sono solo due dei nostri indicatori ma ce ne sono molti altri anche cripto sì ci sono molti altri di indicatori che abbiamo sviluppato tra cui anche indicatori volumetrici eccetera eccetera che mi fanno capire qual è l'esatto momento in cui stanno comprando cioè se è questo se è questo se è questo io vedo dentro la ciclicità come si muove il denaro proprio nello specifico questo mi dà un plus ancora più elevato e vado ad aumentare ancora le mie probabilità di successo ok come vi dicevo questi sono indicatori che esistono da più o meno 15 anni non li ho creati io ma il mio socio che fa questo lavoro da più o meno 20 anni però diciamo che dopo esserne venuto a conoscenza di questi indicatori io personalmente che faccio trading come professione da circa 7 anni ho insistito molto per creare questo percorso formativo questo è stato creato per una serie di motivi primo perché io all'inizio ho buttato molti soldi in corsi inutili soldi persi non sapevo dove sbattere la testa quando ho capito questi concetti mi si è aperto un mondo e mi ha veramente risolto tanto scusa la domanda stupida ma tutto questo vale al di là del news quindi manipolazioni allora le news non sono manipolazioni o meglio sono manipolazioni fittizie il mercato va in base al denaro le manipolazioni io non le le news io non le guardo c'è anche un motivo perché non le guardo perché le le news vengono usate dalle mani forti spesso per far andare al contrario i polli tieni in considerazione che chi manipola i mercati controlla tutte le testate di informazione e controlla tutte le agenzie di rating è ovvio che le mani forti per comprare hanno bisogno di una massa enorme di polli che vendano perché mercato dove c'è un venditore ci deve essere un compratore e viceversa non è che uno compra senza che ci sia una controparte di conseguenza se io devo comprare devo allocare miliardi devo far credere a tutti i polli che il mercato scenda come faccio con le news per esempio con le news nell'analisi volumetrica si vedono cose molto interessanti cioè tu vedi magari che un prezzo sale i big comprano qua esce la news negativa il prezzo fa un piccolo crollo ma si vede tranquillamente che quel crollo è privo di vendite è totalmente panico e quando è così se loro hanno comprato qua e la news crea un crollo e in quel crollo non c'è nessuno che vende stai tranquillo che il prezzo ritorna in alto e quella è un'opportunità se tu vedi dietro il movimento di prezzo ok ma non fa parte del percorso la perdita so non sarò mai profitero del 100% ma già sapere che sei prima in trader e poi formatore in realtà è molto assicurante sì esatto diciamo che io ti posso assicurare che chiunque oggi guadagna sui mercati ha perso soldi ma perché ha perso soldi perché il mondo del trading è un mondo dove ci sono tante informazioni fasulle questo è da dire nel senso che tanti ti fanno credere che il trading sia una passeggiata un modo per fare soldi facili e ti inducono a fare cose sbagliate questa è una parrocchia l'altra parte è legata al fatto che il trading viene approcciato in maniera sbagliata perché perché molte persone prendono il trading come un modo per fare soldi facili ma in realtà non è così quindi se tu parli con le persone molte persone la prima operazione finanziaria l'hanno fatta perché hanno sentito perché l'amico gli ha detto perché intuiscono quindi fanno un tipo di trading che è totalmente in base al sentimento e chi fa queste robe per amor di Dio non c'è nulla di male tutti l'hanno fatto all'inizio però arriva un momento a forza di prendere bastonate dove uno capisce che o è l'ora di fare il professionista questo vuol dire cominciare a prendere una direzione strutturata e seria o è meglio lasciare perdere e andare e usare i soldi in vacanze e cena fuori quindi questo è il punto no quindi chi ad oggi entra in questo percorso formativo per la prima volta cioè se questo è il tuo primo approccio sei fortunatissimo perché non hai buttato migliaia di euro in corsi inutili non hai buttato migliaia di euro in perditi cosa che io ho fatto personalmente ma perché perché non avevo tutto strutturato e ti garantisco che è anche molto più complicato perché quando tu ti impegni per un obiettivo fatichi leggi un libro a settimana per anni e vedi che non che non stai ottenendo i risultati andare avanti è dura te lo garantisco avere qualcosa di già creato ti dà tutte le cose che devi fare senza dover scoprire nulla ragazzo mio è una mano è una mano dal cielo poi mi rendo conto che non ne percepisci tanto il valore ma ti garantisco che è elevatissimo e infatti stiamo parlando di un settore che ha più o meno tra l'80 e il 90% delle persone che bruciano soldi questa sono dati ufficiali dell'ESMA che è l'ente europeo che si occupa del monitoraggio dei mercati finanziari e in tutta Europa tra l'80 e il 90% delle persone bruciano soldi e i motivi sono quelli che abbiamo detto a non c'è una formazione valida ufficiale tutto ciò che si trova la maggior parte di ciò che si trova online è o analisi tecnica o analisi grafica o analisi statistica tutte queste sono da buttare perché nel lungo periodo non funzionano il mercato non si ripeterà mai come si è ripetuto in passato quindi togli tutto questo 90% di roba che non funziona ti rimane la parte non sei il solo non sei il solo ce ne sono tanti che perdono soldi dopodiché scusate mi senti dato questa impressione non volevo davvero anzi sto cercando di capire questo reale quanto reale valore sia di questa opportunità sì sì cioè no no ma non mi sono offeso Stefano tranquillo cioè io non non mi vergogno a dire ciò che è stato perché alla fine non è che ci nascondiamo dietro a un dito chi ti dice sono andato in borsa la prima volta ho guadagnato sono cavolate in sostanza quindi questo è per farti capire no cioè io sto cercando anche di darvi dei consigli di approccio al di là di consigli tecnici no perché alla fine serve un corretto approccio e una corretta conoscenza questo è il punto e come vi dicevo dal lato formativo tutta la roba che è analisi tecnica è da buttare l'analisi che si basa su dei concetti solidi economici tipo l'analisi volumetrica o l'analisi ciclico volumetrica non siamo gli unici a fare analisi volumetrica però qual è il punto è che anche nell'analisi volumetrica che trovate in giro qual è il problema è che non c'è una non discrezionalità cioè quando voi avete una strategia tutti devono vedere la stessa cosa perché che qui una linea abbia incrociato l'altra è oggettivo che qui il prezzo sia in corrispondenza del minimo di un DNA è oggettivo se voi anche approcciate delle strategie che si basano su dei concetti solidi ma quei concetti o quella performance è figlia di intuizioni voi non le imparerete mai cioè se io se voi andate da una persona che fa duemila euro al giorno mettiamo e questi duemila euro li fa perché lui intuisce delle cose perché sono vent'anni che guarda i grafici voi non potete imparare quella strategia perché quella strategia è figlia delle sue intuizioni quindi voi avete bisogno di qualcosa che si basa su dei concetti economici che tutti devono vedere alla stessa maniera quindi dove non c'è interpretazione perché chi inizia oggi deve vedere la stessa cosa di chi fa trading da dieci anni perché se no è totalmente aleatoria la cosa deve avere una corretta gestione del capitale e corretta gestione del rischio quindi trovare qualcosa che abbia tutte queste caratteristiche insieme è veramente difficile l'abbiamo creato noi io non ne ho trovati altri così nonostante ripeto sia siano dieci anni che studio più di dieci anni che studio trading ok questo è il punto no infatti con la creazione di questo percorso formativo esiste esiste è questa sono i nostri percorsi formativi e ripeto è l'unica strategia che puoi insegnare con ragionevole certezza cioè nel momento in cui tu hai una strategia di questo tipo che A si basa su concetti economici B non è discrezionale C ha un ritorno sul rischio adeguato D hai la corretta gestione del capitale la tua unica preoccupazione deve essere quella di capirla di applicarla se tu sei in grado di capirla e di applicarla con disciplina il guadagno ce l'hai punto questo è è un aspetto veramente che agevola notevolmente la formazione nostra perché ti dà in mano una macchina un conto darti una macchina tu la usi perché ti viene spiegato esattamente come fare ma tu la macchina ce l'hai e devi solo preoccuparti di imparare a usarla non devi scoprire il motore a scoppio e costruirti la macchina per conto tuo perché quello sarebbe veramente difficile quindi qua noi abbiamo realizzato questo percorso formativo che si chiama All Inclusive che è formato da tutta una serie di video sono più di 100 video video corti massimo 15 minuti per un totale di 20 ore e ti dà tutta quella conoscenza che ti serve per capire esattamente come applicare queste strategie a fine del tuo studio quando vuoi scarichi gli indicatori che applicherai alla tua piattaforma quindi ti diamo gli indicatori in mano e una volta alla settimana facciamo una live di supporto quindi hai studio hai gli indicatori pratica e una volta a settimana mi puoi chiedere quello che vuoi all'interno di una live quindi in questo modo tu hai tutto ciò che ti serve per poter arrivare a essere indipendente questo è importante c'è una domanda legata all'inflazione anche l'inflazione è un dato che genera un certo tipo di reazione da parte degli investitori ma a quel punto nasce da capire gli investitori che poi agiscono sono quelli che contano o sono quelli che in quel momento si fanno prendere dall'euforia o dal panico perché tutte le notizie anche quelle macroeconomiche scatenano una reazione sul mercato ma non la scatenano automaticamente la scatenano nell'emotività delle persone che fanno una certa azione ma se l'azione fatta è dei big allora genererà un certo tipo di andamento strutturato se è dei polli e i big fanno il contrario quell'andamento non durerà a lungo questo è il concetto ora ti faccio una domanda quanto vale una strategia che con 5.000 euro ipotetici potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese chiaramente 5.000 è un esempio non per forza ci vogliono 5.000 però il valore è veramente alto come dicevo prima qui non solo hai un qualcosa che ti dà un risultato se lo applichi ma è anche un qualcosa che ti evita quelle norme a montare di errori che certamente faresti e poi dovete considerare che il trading è un settore che non fa sconti se quando sbagli paghi paghi subito non è come nell'imprenditoria fai un investimento sbagliato ti torna indietro il danno dopo magari anche un anno qua sbagli l'operazione bruci soldi bruci centinaia o migliaia di euro dipende da quanto pesante entri quindi ogni volta che sbagli paghi se tu cerchi di imparare a forza di errori ogni concetto ti costerà centinaia o migliaia di euro tempo e sforzo quindi avere qualcosa che già ti dice cosa non fare e ti porta sulla strada corretta ha un valore enorme veramente enorme poi dovete anche considerare il periodo storico in cui siamo siamo in un periodo dove il valore della finanza il valore del denaro vigeno in finanza è più di 30 volte il più mondiale e cresce ogni anno più o meno del 10% questo cosa vuol dire vuol dire che sempre più soldi finiscono in finanza rispetto all'economia reale quindi non è che le crisi ci sono perché mancano i soldi i soldi ci sono semplicemente non sono nell'economia reale sono nelle borse e sarà sempre di più così questo vuol dire che sempre più multinazionali tragano profitto rispetto alle speculazioni finanziarie piuttosto che dalla vendita di beni e servizi e se poi ci mettiamo anche il fatto che le intelligenze artificiali ormai stanno facendo passi da gigante automatizzazioni dei processi produttivi quindi sempre meno persone sempre più persone non avranno lavoro ci sarà bisogno sempre di meno persone nell'operatività ormai ci sono imprese intere che vanno tutte grazie a robot intelligenze artificiali in qualche mese stanno facendo degli avanzamenti impressionanti se voi unite che sempre più soldi vanno in finanza ci sarà sempre meno lavoro per le persone dovreste fare un attimo una riflessione chi non ha un reddito dalla finanza tra magari un anno due anni potrebbe essere un disoccupato questa è una riflessione fare non è garantito chiaramente ma se uniamo i puntini con un po' di logica arriviamo a questa conclusione senza contare che il trading ti dà grandissime opportunità prima perché per me è l'attività migliore del mondo la puoi fare dovunque quando vuoi ha una prospettiva di crescita impressionante perché in borsa fare 100 euro o 1000 euro al giorno è uguale tecnicamente dipende da quanto da quanti soldi possa impiegare è un'attività imprenditoriale io considero a tutti gli effetti quindi sì c'è la possibilità di contattarci privatamente poi arriviamo anche a quello è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti che ti consente di iniziare con veramente poco cioè per fare un'azienda tu devi spendere migliaia di euro decine di migliaia di euro tra apri una società prendi uno stabile macchinari vanno via veramente molti soldi per fare trading ti basta un pc e una connessione e magari un percorso formativo che ti accompagni quindi hai un costo azienda un investimento che è minimo con una prospettiva di guadagno estremamente alta noi abbiamo persone che fanno 1000, 2000, 3000 euro al giorno in meno di un anno qual è quell'altro business legale chiaramente che ti porta a fare dei guadagni di questo tipo in così poco tempo e con investimenti così bassi c'è da farci una riflessione ok certo certo Alessandro quindi è un qualcosa veramente veramente importante su cui ragionare come dicevo la nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza che non vengono da me come dicevo ma dal mio socio fondatore la conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti come abbiamo fatto tutti attraverso un videocorso con più di 100 video con 20 ore più di 20 ore di contenuto con operazione mercato aperto videocorso che puoi guardare e rivedere a tuo piacimento per sempre una volta che ce l'hai è tuo dopodiché hai i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta quindi tu puoi richiederli quando vuoi quindi mettiamo che tu inizi oggi primo di settembre hai finito di studiare richiedi gli indicatori i 6 mesi iniziano dal primo di settembre non da oggi per iniziare la tua operatività farai un periodo di demo poi quando ti senti bene andrai in reale in relazione a quelle che sono le possibilità e a quello che a quello che ti senti tu ok dopodiché dopo i 6 mesi c'è un rinnovo annuale in più avrai un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte verranno chiederti dubbi e verranno fatte analisi di mercato per sempre anche questo è un supporto che diamo per sempre senza scadenza esattamente come il contenuto quanto vale tutto ciò 5.000 diciamo che questo era un costo che inizialmente pensavamo di chiedere nonostante a noi ci sia costato almeno 10 volte tanto solo in soldi persi però volevamo creare qualcosa che fosse alla portata di tutti quindi ci siamo resi conto che molte persone non hanno 5.000 euro per iniziare e poi magari qualche migliaio di euro da dedicare al trading quindi abbiamo deciso di venderlo ad un prezzo simbolico di 1.647 perché dico simbolico magari alcuni dicono vabbè 1.600 sono molti per alcuni possono essere molti però qual è quell'altra attività imprenditoriale che ti consente con 1.647 euro di iniziare un'attività imprenditoriale che fra 6 mesi te li puoi far fare al giorno di contro se non fai questo e fai da te questi soldi li puoi perdere in un giorno io li ho persi in meno di un giorno nel 1.647 in passato il punto qual è? che la mia perdita è stata totalmente inutile perché io una volta che ho bruciato più di 1.600 euro non ho capito perché li avevo persi cosa avevo sbagliato ed erano veramente buttati se invece tu li usi per avere delle informazioni che solo in errori ti risparmiano 10 volte questo costo e successivamente ti possono far arrivare a farli non dico al giorno ma ammettiamo anche a settimana con un investimento di questo tipo è comunque tanta roba ok? ti voglio dare un altro beneficio un altro regalo primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli e acquistano entro domani alle 13 avranno un ulteriore sconto di 300 euro il prezzo diventerà 1.347 che è veramente un regalo se l'avessi avuto io all'inizio avrei fatto i salti mortali anche perché potete pagarlo con bonifico carta o paypal paypal vi dà la possibilità di dividere il costo in tre ok? senza costi senza tasso zero e il pagamento si può fare con carta o paypal qui su questo link che ora vi inserisco adesso arriviamo anche a tutti gli aspetti tecnici cliccando su paypal vi apparirà già il prezzo scontato quindi anche se qui c'è scritto 1.647 adesso arrivo anche se qui c'è scritto 1.647 troverete il prezzo a 1.347 in paypal mentre se fate con carta qui avete la possibilità di inserire un codice sconto qui fate chiudi codice promozionale metti sconto 300 tutto in maiuscolo e tutto attaccato fai applica prezzo 1.347 qui compili con tutti i tuoi dati fai paga a quel punto ti arriveranno via mail delle credenziali dove avrai una username e una password entri nel sito troverai tutte le lezioni teleguardi tutte le volte che vuoi per pagamento con bonifico mandatemi una mail che vi mando i dati del conto corrente anche per qualsiasi tipo di informazione domande volete parlare con me direttamente potete scrivermi a questa mail che vi sto mettendo in chat e questo è il mio numero se volete scrivermi su whatsapp cosa importante abbiamo anche una finanziaria convenzionata che vi può fare un finanziamento per il corso quindi lo potete pagare anche a rate mensili da intorno ai 50 euro minimo può essere un'ulteriore agevolazione altra cosa importante gli indicatori funzionano per la multicharts vedete intanto qua il prezzo ha cominciato a scendere rispetto a qualche minuto fa gli indicatori funzionano per la multicharts per la mt4 e per la ninja trader ora vi consiglio fortemente o la multicharts o la ninja trader perché perché sono piattaforme professionali che funzionano nettamente meglio della mt4 che è lenta e gratuita ma è una piattaforma non buona poi queste due piattaforme qua vi danno i dati volumetrici ufficiali ci sono gli indicatori volumetrici dentro quindi è necessario avere o la multicharts o la ninja normalmente queste due piattaforme sono a pagamento e costano anche un po' parliamo di multicharts costa intorno ai 1800 euro lifetime però abbiamo un modo per farvela avere gratis c'è un broker americano che aprendo un conto mettendo un deposito minimo da 150 euro vi dà la piattaforma gratis quindi avete un risparmio anche di quasi 2000 euro di piattaforma quindi voi cosa fate aprite questo conto su questo broker americano si chiama AMP Future utilizzate la piattaforma installate i nostri indicatori utilizzate il data feed del CQG a una fornitore dati che è uno dei migliori al mondo ufficiali della borsa e qui avete tutto per fare le vostre analisi poi se volete operare da qualche altra parte siete liberissimi di farlo ok il rinnovo annuale degli indicatori è di 800 euro all'anno che non considero un costo perché se non mi fate almeno 800 euro in 6 mesi di operatività vuol dire che non hai aperto video insomma vuol dire che non ti sei applicato ok domande dubbi tutto chiaro no per il sito non abbiamo un codice di affiliazione noi per scelta non vogliamo affiliarci con nessuno perché vogliamo rimanere super partes non voglio condizionare la scelta di nessuno la nostra filosofia è quella di darti una strategia poi sei tu a valutare se è meglio un broker rispetto all'altro noi ti spieghiamo come valutare un broker e perché noi scegliamo un certo tipo di broker ma per scelta non vogliamo affiliarci con nessuno per la parte cripto la seguite anche sì la seguiamo ma più nel medio lungo grido sì si può rivedere domani ti arriva una mail con la registrazione sì si può rivedere certo segnatevi solo il mio numero e la mia mail e la rimetto qua in modo tale che se avete domande se volete chiedermi qualcosa volete fare la finanziaria volete informazioni su bonifico ve le mando direttamente io il link vi arriverà anche tramite whatsapp da un numero aziendale quindi se volete rispondere potete rispondere anche a quello aziendale ma non vi rispondo io poi se volete parlare con me i miei dati sono questi scriveteli su un foglio o fateli una foto ok perfetto sono contento che mi sia piaciuto e vi ringrazio per essere stati quasi due ore con me spero di avervi trasmesso anzi sono sicuro di averti trasmesso coincetti interessanti e di averti dato una view corretta di quello che è il trading puoi sta a te scegliere se iniziare e arrivare a fare dei numeri importanti che ti possano togliere delle soddisfazioni oppure mollarlo perché non hai alternative purtroppo il trading è un settore dove o studi veramente o è meglio quello mobile quanto tempo si passa con la vostra strategia davanti agli grafici dipende se fai il giornaliero chiaramente devi passarci molto tempo ma se fai operatività sul mensile sul 15 giorni anche 10 minuti al giorno perché farai un'operazione al mese un'operazione a settimana scegli tu perché come dicevo si applica a tutte le temporalità e a tutti i mercati intanto continua a scendere non vi consiglio di operare short qua mi raccomando perché a siamo contro tendenza e b poi non avete domani gli strumenti per monitorare la posizione quindi non fate operatività se non avete sta roba ok dai vi ringrazio ancora una volta vi auguro buonanotte a tutti e rimango a disposizione via mail o via telefono con chi vorrà vi contatterò perfetto mi fa piacere e buonanotte a tutti ora chiudo chiaramente anche se nei prossimi giorni vi vengono domande dubbi siamo qua buonanotte grazie a voi buonanotte a tutti grazie a tutti